Avvocato, al di là del procedimento penale c'è un procedimento amministrativo che poi è volto alla bonifica dei terreni inquinati. Sì, ho evidenziato che attendiamo l'esito di questo processo con serenità, con la serenità di chi ha lavorato impegnandosi al massimo anche in coordinamento con la Procura. Ma chiaramente come Ministero dell'Ambiente non posso che evidenziare che la nostra presenza qui ha un significato in quest'ambito, ma anche per evidenziare che c'è un procedimento amministrativo, ci sono anche delle vertenze davanti ai giudici amministrativi pendenti, ma lo scopo finale del Ministero dell'Ambiente è quello di ottenere da parte del proprietario responsabile il ripristino delle aree. E quindi è evidente che quel procedimento segue percorsi completamente diversi dal processo penale.